Mi riferisco signore eccellente, una canale vada a tutti i quadri, a quattro sono venute allegramenti, se deve spazio a chi viene sento davanti, se stanno ancora tutti i quadri. Grazie a tutti. 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 Sì sì, molto e tuve l'escalza di libera. Questa è molto calda. è buono per arrivare in questo cari amici a tutti non stai potuto guardare i valigi perché le porte sono stati capace brava cari figli miei mi dico scusa il figlio è arrivata la morte mia fortuna devo partire per il campo no la vita è dura è ognuno che capisce una ragionata una ragionata la vita è una ragionata un'ora una ragionata quarantinsima due giorni e senar vita poco mi culo capite di nata quarantins aiutati e la vita è buono buono ricostate dicere è buono buono ricostate dicere la gente è buono presidista e buona nazione allora allora c'è io la vita allora ciao Grazie Grazie Grazie